Luiobove, coordinatore del comitato spontaneo cittadino, questa mattina un flash mob per il consultorio di Francavilla, con quali finalità e quali sono le richieste? Esattamente, questo è il terzo appuntamento, abbiamo iniziato da luglio 2020. La richiesta è semplice, quella di riaprire il consultorio, perché ad oggi non ci sono motivi perché il consultorio sia chiuso. Quanto è importante questo servizio per la città di Francavilla e quindi quanto è importante riattivarlo? In tempi normali è un servizio fondamentale, perché è un servizio che eroga servizi psicologici, servizi pediatrici, si fa uno screening per il tumore al collo dell'utero, quindi si fa prevenzione con il pap test. Figuriamoci in tempi di pandemia, dove si dovrebbe avere accessibilità di questi servizi medici. In questa giornata si riferisce soprattutto all'assessore regionale della sanità, al presidente della giunta regionale. Esattamente, l'ultima promessa è arrivata proprio dall'assessore Verri, la quale dice che il consultorio a Francavilla riaprirà a metà febbraio. Noi abbiamo deciso comunque di continuare questa battaglia, che riteniamo giusta, fin quando non lo vedremo aperto. E non solo, una volta aperto vorremmo anche vederlo potenziato per avere servizi sempre più di qualità. Sì, per concludere, quali sono le prossime azioni che avete in programma? Dopo oggi noi continueremo comunque a vederci, vorremmo concordare con dei professionisti del consultorio. un incontro per i ragazzi, per avvicinare loro a questo mondo e per capire anche il disagio giovanile che c'è in tempo di pandemia e parlare anche di sessualità, insomma, per una fascia così fragile come quella adolescenziale. Poi, se necessario, ci saranno altri incontri direttamente nei palazzi della ASL e chiederemo un incontro con Thomas Schell. Grazie mille.